Capitano. Ciao. Come stai? Tutto bene e te? Non lo so, mi è riuscito un come stai molto... Lui è il mio cane preferito. King vuol dire qualcosa? Perfetto. Allora Edo, come stai? Comodo. Sto proprio rilassato. Più o meno. Sto impazzendo. Però tutto a posto. No, no, no. So che... Cioè, quando impazzisco sono felice perché significa che sto affattando. C'è stress. Sì, però sei stressato perché fai infinite cose, però te bai... A base sei felice. Quando faccio tante cose, quindi impazzisco, sono felice perché significa che sto facendo tanto. Sto lavorando. Quindi, meno male. Senti, io... Allora, le altre volte abbiamo parlato del amore, amicizia. Abbiamo parlato del lavoro. Oggi se ti va, ma solo se ti va, sei preoccupato? No, 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 no. Te vedo un po' preoccupato. So, vai, vai. No, io ci sono vari punti che vorrei toccare, però comincerei con uno semplice semplice. Giusto per rompere il ghiaccio, per far sentire più tranquillo. Allora, l'altra volta avevamo introdotto una cosa. Ok. Parlavamo di ansia. Il sospiro, penso che, insomma, fa capire che l'argomento te tocca. Allora, volevo chiederti, tutto questo stress, tutto questo lavoro, tutto questo essere fagocitato dai giudizi delle persone, doverti mostrare in un certo modo, ma non perché tu sia falso, ma perché sei un personaggio pubblico, ti porta a un qualche tipo di ansia? Allora, parte dal fatto che mi sta a venire ansia solo a parlare di questo, ma perché non per me, per questo. Cioè, nel senso, perché ho paura che qualsiasi cosa io possa dire venga utilizzata contro di me. Nel senso, ma che consigliamenti, c'hai tutto, guarda, stai in una casa fighissima, stai a vive cose fighissime e devi soffrire di ansia, ma c'è gente che ci ha. Capito? E quindi ho paura adesso. Ecco, non è ansia, è più paura. Allora, posso dire una cosa? Allora, sto ragionamento è un ragionamento stupido, è una di quelle cose che viene fatta, non il tuo, quello che fa la gente. Ti spiego. Quando c'è la depressione, la depressione si basa sul tono dell'umore, uno degli errori più grandi che viene fatto con le persone depresse è fare, vabbè, ma da che te lamenti? C'hai tutto. Magari c'è un bel lavoro, una bella casa, bei figli. Questa è una cosa che fa sentire ancora più sbagliata la persona che vive quel momento, perché tu ti senti ancora più in colpa per quello che vivi. Sì. Quindi io non lo so quello che dirà la gente. Posso dirti la verità? Nemmeno mi interessa. Però quello che ti dico è questo, che secondo me quello che dici e quello che fai è importante. E il tuo dolore, indipendentemente che sia una piccola paura, che sia una grande paura, che sia media, secondo me va rispettato. Se qualcuno non lo fa, il problema non può diventare il tuo. Allora, una cosa vera è quando dici, cioè quando hai detto quando hai tutto ti senti quasi in colpa, ok? Hai detto tipo una cosa, ok? Una cosa del genere, sì, sì, sì. Io molto spesso quando faccio delle cose fighe e le mostro, prima un po' di più, adesso un po' di meno, mi sento in colpa. Cioè io ho avuto determinati lavori, determinate cose che facevo molto fighe, che mi sentivo in colpa a mostrarle o a farle. E quindi c'hai ragione sotto sto punto di vista. Perché quando io dico, ah, sono una persona fortunata perché sto vivendo questo e mi sento in colpa a parlare determinate cose perché dico, ma che cazzo mi lamento? E anzi mi sento in colpa anche a mostrarle. Cioè io, lo sai qual è il problema? Io ho sempre detto, da quando ho iniziato, io c'avevo tipo questo slogan, questa cosa, vlogger per sempre. Perché facevo tipo, ci rivedremo da vecchi perché saremo vlogger per sempre. Perché ho sempre pensato tutto questo, tutte le mie telecamere, racconto la mia vita, invece di scriverlo su un diario, lo metto online, a video, perché qual è la differenza? È che se c'è un video, hai un ricordo visivo, senti la tua voce, come cambia il tempo, vedi te anche fisicamente come cambi. E quindi io faccio sempre, ci rivedremo da vecchi perché saremo vlogger per sempre. Il problema è che in questi sei anni la mia vita è cambiata tantissimo, la vita è cambiata, cioè da così a così, letteralmente. Quindi io adesso mi sento in confronto a prima, in colpa a raccontare la mia vita. Perché quando la rivedo, a me crea felicità, mi piace vedere come sono cambiato nel corso del tempo, però mi crea anche un disturbo e un problema se vivo qualcosa di bello. Non so se, è strano da dire. No, in realtà ho capito, però l'altra volta mi hai detto frate. Ok, può essere che ho detto questo, frate. Mi hai detto frate, io mi ricordo le parole precise. Mi hai detto frate, io mi faccio il culo. Sì? Mi faccio il culo. Allora tu per sei anni ti sei fatto il culo, hai lavorato, ti hai cercato di raggiungere degli obiettivi, hai messo un'ambizione enorme anche in quello che fai, però nonostante tu, cioè per conto è che tu fossi stato adesso mio figlio, io ti davo 20 milioni d'euro e tu facevi quella roba lì. E allora potevo un po' capire, ma tu vieni praticamente da zero. Perché arrivare a pensare a cosa del genere e soprattutto ti chiedo, i soldi, questo cambiamento, questa roba che c'hai, ti stanno rendendo felice? Come uno può pensare? Cioè io se vedo i tuoi video, abbiamo visto dei video insieme. C'è cazzarola che vita! Ho il film, è la serie, è quello e va di là. Ma tutta questa roba, tu quando ci pensi, sei felice? Allora, mi hai fatto troppe domande in una sola frase, allora aiuto. La prima cosa che ti voglio dire è non lo so perché mi sento in colpa. Sarà che sono le persone che mi ci fanno quasi quasi sentire in colpa, ma non dal commento o da qualcosa, è proprio dal vedere l'atteggiamento delle altre persone. Ok. Ok. Proprio in generale anche una cosa che non è che mi dà fastidio, cioè da una parte mi rende felice e dall'altra anche molto triste dentro. Ok. È quando magari incontro dei miei colleghi o delle persone che conosco da tempo. Gli dico, ciao, come va? Tutto bene? Ma cosa mi racconti di bello? Classica cosa per aprire un discorso, no? Voglio sentire cosa hai fatto nell'ultimo periodo. Raccontamelo, sono curioso. Eh, io niente. Ma dimmi te, devi dove stai sempre a fare queste cose fighe. Bello, bella la vita, belle le cose che fai. Raccontamelo te. E io lì mi trovo sempre spiazzato perché da una parte dico, è vero, cioè sto facendo un botto di cose. Però dall'altra parte dico, le altre persone hanno magari un pensiero sbagliato su di me. Perché dicono, ah, stai sempre a fare cose fighe, però in realtà non sanno che dietro a tutte le cose fighe c'è sta. E' bruciato il culo. Eh, sì, non mi andai a ripetere nuovo, però sì. Ah, lo ripeto io. Quindi questo. Mentre, prima della questione dei soldi, lo sai che io mi sono rotto il cazzo di viaggiare. Oh, diciamolo. Bro, mi sono proprio rotto le palle. Io ogni volta che mi arriva anche una proposta, un qualcosa, o mi piace o non l'accetto perché io mi sono proprio reso conto che il mio fisico non ce la fa più. C'ho 24 anni, mo, e mi sento anche una merda di che non glia faccio più. Però ci sono dei momenti in cui, non è che io non riesco a sconfiggere il jet lag, però se prendo, vado tre giorni in America, poi torno in Europa, poi ritorno lì, e poi vado di qua, poi vado in Asia, e poi mi giro d'Italia, e prendo tantissimi treni e tantissime aerei, arriva un momento in cui io faccio, chi me lo fa fa? Anche la cosa che molti dicono, ah, voli in business class, eccetera, in realtà, in primis è anche per i contenuti web, quindi ci sta. Seconda cosa è anche perché, se vado in America per stare trenta ore, io devo dormire in qualche modo, quindi prende la business class spesso, non è che so viziato, è che è ovvio che in un posto più comodo, più grande, dove te sdrai magari dormi, capito? Cioè io non viaggio più per passione ormai, cioè viaggio solo perché ho un accordo da una parte, ho un accordo dall'altra, devo fare una cosa importante da una parte, bla bla bla. Difficitamente adesso vi faccio un viaggio per, oh, voglio andare in sto posto per svago, è un po' più difficile, e se mi succede, mi succede una, due volte massimo l'anno, ma di certo non in chissà che posti. Posso dire meno male? Dici che? Meno male. Perché dici meno male? Perché sei umano, cazzarola. Hai viaggiato con... Eh ma valla a spiegare persone, io ho sempre detto, io, questa è una cosa magari, cioè, bruttissima a dire, però appena c'è stata la prima andata di covid, io ho fatto così, e non puoi capire quanto mentalmente la prima andata di covid mi ha aiutato. La seconda mi ha distrutto, però la prima andata di covid, e ti spiego anche perché, io a fine gennaio, inizio febbraio 2019 ho iniziato il tour Valespo, sono stato fino a giugno in tour, poi a luglio ho fatto così, a tutti. Ho detto, oh, bella, vado, no, vabbè, in realtà no, a luglio ho finito ancora dei lavori, poi appena ho finito i lavori ho fatto così a tutti, e sono stato fino a fine agosto in giro. Ho fatto cinque settimane dove veramente giravo dappertutto. Lì poi ho fatto, visto che facevo sempre vlog eccetera, mi piace tantissimo poi viaggiare, ho detto, voglio fare ogni mese dei vlog in ogni parte del mondo, quindi mi piacerebbe fare un mese in Europa, un mese fuori dall'Europa, un mese in Europa, un mese fuori dall'Europa. Quindi ho fatto settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Per cinque mesi stavo, cioè, sono stato sempre in giro. Quando sono tornato a casa e c'è stato il lockdown, io ho detto, no, c'ho tutti questi plan, tutte queste cose, mi stanno saltando un botto di cose, perché in realtà quando c'è stato il covid, io mi trovo a Los Angeles e dovevo stare per altri dieci giorni a Los Angeles. E ho fatto, no, mi stanno saltando tutte le cose, c'è delle cose lì di lavoro, mi stanno saltando, però appena sono tornato in Italia ho fatto... Ho fatto proprio così, ho fatto, ah, che bello qui, oh, gioco ai videogames. Mi sono rilassato. Quei tre mesi, quattro mesi dove sono stato a casa, ho fatto veramente una pacchia. E poi quell'estate ho detto, vado in un posto tranquillo. Mi sono goduto, in parte, il viaggio. Me lo sono goduto molto di più. E adesso mi sento, cioè, la stessa identica cosa. Quando faccio un viaggio so che non me lo godo appieno perché proprio... Però ti posso dire, allora, io capisco quello che ti dicono le persone e capisco che si vive molto di feedback, però veramente è una cosa normale. Uno, perché è il tuo lavoro. Cioè, quando una cosa diventa un lavoro, non c'è più quell'essenza e quella fiamma dei primi tempi che fai, oddio, che figo, sto andando. E poi c'è un'altra cosa. Io te lo dico, io pure ho viaggiato parecchio, ho fatto animazione in giro per l'Europa. Però arrivi a un certo punto che vuoi una stabilità, vuoi il tuo posto sicuro, vuoi che quando tutta la giornata va male tu ci abbia il tuo porto sicuro. E quindi qua torniamo sempre al solito discorso. Ok, alcune persone non comprendono, capisco la paura, però rimane sempre la cosa importante. Tu non sei un'intelligenza artificiale, non sei un robot, sei un essere umano. E quindi credo che, secondo me, proprio mentalmente, andare a strizzare, cioè io mi immagino adesso, quando mi parli, la faccia che fai quando parli dei viaggi, mi immagino come se tu fossi un panno, realmente è un panno bagnato. E' uno che fa il panno bagnato, la prima cosa fa lo strizzi, io mi immagino tutto strizzato, poi dopo il panno lo ritiri giù, però è tutto stropicciato. Io ti vedo stropicciato quando parli di sta roba. Però è un botto, perché in realtà il viaggiare ti toglie giornate, ma io viaggio tanto anche in Italia. A me la gente mi chiede, Edo, quando vieni in questo posto d'Italia, bla bla bla, a me pesa anche andare a Roma. Io non torno spesso dalla mia famiglia a Roma, perché a me pesa tantissimo. Anche se mi dovessero dire, guarda, c'è un lavoro dove a Roma, faccio per favore, posso prendere l'ultimo treno o un aereo, voglio tornare a casa mia a dormire. E se proprio non posso, perché poi c'è la cena di lavoro o qualcosa, io faccio pure se io sono nato a Roma, letteralmente. Però mi pesa, c'ho la mia famiglia che sta giù. Uno mi dovrebbe dire, vabbè dai saluti i tuoi, saluti i nonni. Io c'è alzarmi, andare in stazione, prende il treno, scende giù, postamme. Perché non è una volta. Quindi arrivo in un momento e faccio proprio questo. Infatti io adesso ogni volta, quando faccio poi i viaggi un po' più lunghi, decido di partire la mattina presto. Così faccio un'ottata. Faccio un'ottata, mi metto seduto e provo a stirare. Perché è proprio pesante fisicamente. Cioè, la mia salute ne sta risentendo. Io non voglio che ne risentano la mia salute. Cioè, ho 24 anni, se sto male mo', pensa fra dieci anni come sto ammesso. Quello che te voglio chiedere è una cosa. Tutti sti viaggi, da quello che ho capito, tu non fai solamente un lavoro di interazione con le persone che te seguono. Fai un lavoro continuo con le aziende, fai un lavoro continuo con chi collabori. Fai un lavoro continuo con persone con cui, del mondo del web, con cui collaborare. Sta roba ti fa andare in sovraccarico di interazioni sociali. Cioè, va in sovraccarico. A volte ti viene quasi, passami il termine perché non ne trovo uno meglio, metti un virgolettato, paura delle persone ma perché sei saturo, satollo, non ce la fai più. Dici basta. Allora, mi succede molto spesso, io ho sempre le cuffiette dietro. Questa è una cosa bruttissima dire. Però quando sono troppo estroverso, ok? Io metto le cuffiette e devo prendere tipo i miei 20 minuti, mezz'ora di musica, dove sto tipo così con gli occhi chiusi, però non dormo. Cioè, non è il dormire. Ma lì sto pure seduto, sto così, faccio canticchio una canzone, sento le cose, faccio, uh, si può tornare ad essere estroverso. È brutto mi sa do dire, non lo so. Ok. Mentre per le persone è perché c'è un'altra cosa bruttissima che magari molti vorrebbero pensare male di me. Allora, me ne sono accorto circa un annetto fa ed è stato Valerio a dirmelo, ok? Io quando cammino per strada, con frutto magari a prima, cammino spesso con la testa bassa perché non mi va di fare l'ice contact con le persone. Ma non perché ho paura alle persone, a me non interessa. È perché, poi ovviamente dipende da giornata a giornata, non è che mi crea disagio una persona che mi dice, oh, sespo. È una cosa che la mia mente fa in automatico. Però devi capire pure una cosa, il tuo corpo, la tua mente, in qualche modo si devono difendere. E se tu, è per questo che è quello la che ti dico sempre, ti ricordi la prima volta che ci siamo visti e ti ho detto, ma la differenza tra ed o es, sespo, sespo, è perché a un certo punto che tu lo voglia o no, nonostante una delle due, sono tutte e due, due parti, perché non è che con una fingi che con una sei vero, però quando una diventa predominante il corpo a un certo punto te lo dice, ti dice, oh, sì, frate, come dici tu, frate, oh, apri l'occhio, qui c'è qualcosa che non va, hai bisogno di te, io ho bisogno di te, hai capito? E credo, e correggimi se sbaglio, che deve essere quasi mezzo terribile, che tu ti debba sentire in colpa quasi, la gente potrebbe pensare che te la divi perché tu hai tutto, perché cioè, deve essere una cosa che la gente dirà questo è scemo, è pazzo, no però, e no, perché tu devi... E mi dice pure, chi se crede deve essere? Le cose vanno contestualizzate, se una persona non riesce a capire, ho capito, però, però te devi dare uno spazio, se no non campi, tu devi pensare al contesto storico che vivi, perché se ragioniamo così, allora nessuno delle persone che sta vedendo il video ha ragione, ci sono dei privilegiati, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di te, prova a immaginare che adesso per tutti i mali che possiamo avere, però tu il piatto dentro casa ce l'hanno la maggior parte delle persone. Già, se stanno vedendo, li hanno un dispositivo per vedere. Esatto, quindi se ragioniamo in questo modo e non riusciamo a capire il contesto, cioè il dolore è una cosa personale e sai quando è il momento in cui si sta meglio e si empatizza? Quando si comincia a rispettare quello dell'altro. Io adesso posso capire perfettamente quello che provi tu? No, non lo capisco, perché se tu, mettiamocene alla mia parte, io ho cominciato a poco, forse per me, ah, pure a me mi piacerebbe, però poi quando ci stai dentro è diverso, probabilmente questo entusiasmo ce l'hai avuto pure tu, e non te pareva vero, sembrava toccarci al cielo con un dito. No, ma ovvio. Ma a me, cioè, tuttora mi fa piacere essere riconosciuto alle persone e soprattutto ricevere dei commenti di stima, proprio anche dal vivo. A me veramente fa tanto piacere, però questo meccanismo mi è... mi è venuto proprio perché, cioè, non è che dico molto spesso voglio stappi a fare i miei, però io stando con tantissime persone, tutti i giorni, ci sono delle volte in cui... A me piace camminare, ma a me piace camminare tantissimo. Io mi faccio a Milano chilometri e chilometri a piedi, ma anche a Roma io ho sempre camminato tanto. Mi piace un botto. E mi piace tantissimo camminare perché mi fa rilassare. Può sembrare una cosa strana, proprio mi metto le cuffiette, sto tranquillo. La stessa cosa faccio io, sai? Ok, a me piace proprio, io mi rilasso, per me proprio mi svuota la mente. Quindi a me succede molto spesso che quando sto tipo rilassato, mi vengono dei meccanismi automatici per isolarmi dalle persone, anche se in realtà ho migliaia di persone attorno perché sto in una zona centrale di Milano. Io in realtà sto nella mia bolla in quel momento. Per dire, a me in realtà non pesa parlare con le persone in giro, scambiarci due chiacchiere, a me fa super piacere. Perché io sono una persona poi molto curiosa, quindi se una persona arriva e mi dice sei un grande, ho visto questo, fighissimo, e mi fa due domande o proprio un'interazione vera. Io preferisco un'interazione vera piuttosto che semplicemente una foto, cioè nel senso ogni persona che mi fermo mi faccio ciao, sì, come stai? Spesso non mi rispondono come stai, quello mi dispiace un botto. Però vabbè, ci sono determinati momenti in cui, eh cazzo, perché fa sembrare una cosa che te dici, ma chi se crede di essere questa, stai? Ci sono determinati momenti in cui non cammino, perché so che se vado nell'orario di punto in un determinato posto, non cammino. Questo non so se sia una cosa figa o una cosa brutta, perché sono io che tuttora decido di caricare la mia vita, caricare tutto. Quindi a me, cioè, io sentire X persone mi fanno, sei un grosso, famo una foto, eccetera, ti amo, eh, figo. Dai. Cosa più figa del mondo. Ma, a volte, avere la, la, è perché è una cosa che va da giornata a giornata. Tu non puoi mai saperlo. Magari una giornata so preso male per X cose o so stressato per X lavori e, 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 e quindi essere fermato ogni cinque metri, non è che mi dà fastidio, eh, è difficilissimo sfigare. No, 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 guarda che, Edo, è più semplice... Crea un disagio. È più semplice di quello che immagini. È come quando te svegli la mattina, che te rota il culo. Ti stanno delle mattine che parleresti con tutti. Sì. Delle mattine che se una persona ti fa, ti ha fatto il caffè, ti innervosisci. Pure se è stata una cosa carina. Ma perché sei umano, Dio mio? È normale. Anche perché la gente giudica la tua vita vedendoti un secondo. Ragazza, non l'ho visto pal'espo, che parli da quello? L'ho visto lì con il rosso. Cioè, capisci? Questo è quanto. Datti pure un margine d'errore. Tanto, ti dico sta grande verità, anche se tu sei perfetto con le persone dal vivo. No, non è vero. Non è vero. Non me lo dire. Che non potrò mai piacere a tutti. Esattamente. Non è vero. È proprio così. No. Ci sarà chi ti dice che sei un emerito stronzo. O chi ti dice che sei un cretino. O chi ti dice che non hai capito niente. Chi ti dice che ti ha chiesto una cosa, ma tu gli hai risposto un'altra, pure se sei stato gentile. Non si può piacere a tutti. Quindi, quando chiedi come stai, che mi racconti, la gente lo sai perché non ti risponde? Perché non ci aspetta. Perché nessuno crede che tu sia sincero. Perché è una frase di circostanza. Lo so. Ma no, sì, ovvio. Il come stai è semplice te. Ciao, ci possiamo fare una foto? Ad esempio. Sì, certo. Come va? Tutto bene? Sì, grazie a te. Sì, bene. Foto. Ciao, buona giornata. Non è che c'è semplice una cosa del... È come quando incontri un tuo amico in giro. Fai, oh, ciao, bello, come va? Oh, bene, te, tutto a posto? Oh, dai, io se beccamo in giro. Cioè, a me, io preferisco anche un... Oh, come? Oh, tutto a posto? Sì, oppure... Oh, sei un grande? Oh, che ne so. Pure domanda X. Dai, i treni. Dai, i treni. No, pure una domanda X. Piuttosto che un... Anche se so che dipende sempre da persone a persone, perché sono le persone timide, che quindi... Esatto, tante volte ci hanno più difficoltà. Sono timide, quindi... Ma le persone timide me ne accorgo. Ci sta. Però, buo, questa è magari una cosa mia... Non sempre, no, eh? No, non sempre, non sempre. Però è sicuramente una cosa mia... Ma prima o poi capirò, magari. Non lo so. Però è faticoso. Sì, stare tra le persone per me è diventato... Siamo passati... Parla quasi di ansia sociale. Sì, è un'ansia sociale. Ma è pure per questo che io, in realtà, ho appena detto che mi sono rotto i palle di viaggiare. Dove mi sento un po' più tranquillo, magari all'estero. Cioè, di farmi una passeggiata... Di andare a fare shopping. Bro, io amo i vestiti. Io amo fare shopping. Io, cioè, mi piace tantissimo. Piengo lo faccio solo all'estero, ormai. Perché mi risulta proprio... Cioè, non è che mi risulta difficile. È un blocco mio dire... Ciao Vale, quindi oggi che facciamo? Uscimo se andiamo a piangere lato? Oppure... Oh, uscimo, andiamo a fare shopping? Oppure... Opre te sta a casa? Sì. Oh, sto in bocca a casa tua. E stiamo a casa. Non usciamo. Al massimo facciamo andiamo a cena fuori, ma nei posti che conosciamo, che stiamo tranquilli. Non... Non prendiamo... Tu mi dici, ma come? Io penso che quest'anno... sarò andato sei volte al Duomo con Valerio. Ogni volta me la ricordo, perché... M'hanno rubato il telefono e sto dovuto andamelo a ricomprare e mi ha accompagnato. Lui si è rotto il telefono e l'ho dovuto accompagnare che l'ha ricomprato. Proprio pochissime volte, diciamo, andiamoci a fan giro. Bro, io nel 2018 stavo tutte le settimane a Roma 2. Ok che a Milano non è che ci sono chissà quanti centri commerciali. Sì, in realtà ci stanno. Però io non vado al centro commerciale, hai capito? Che può sembrare una cavolata. Io se mi devo piar gelato, ho la mia gelateria di fiducia che sta qui vicino. Ma pure se sta qui vicino, io me lo ordino a casa. È bruttissimo. Oppure quando torno a casa a piedi da qualcosa di lavoro, mi piargo e mi piargo in gelato. Però mentre torno a casa... Ecco qui, è paradossale quanto tu conosca il mondo... Cioè, è quanto tu conosca mondi che gli altri non conoscono, ma di quanto tu sia non conoscente del mondo che c'è intorno per questa cosa... È assurdo che se uno ti dice, com'è Miami? Il Giappone? Tutto. Tutto figo. E io poi ti dico, oh ma senti poi, ci ha mangiato da un netto zuzione? Dice, dov'è? Ma è vicino a casa tua? Dice, no, però io... È assurda sta roba di quanto... È paradossale, no? Infatti, a cena dove abbiamo mangiato? A casa. Ho ordinato. E a franzo dove abbiamo mangiato? Vabbè, però, stavamo pure... È su un ghia del trabajo. È un giorno di lavoro, cioè sta. Eh, però... Comunque la pausa l'abbiamo presa. Quanto siamo... Cioè, a cena abbiamo cenato due ore. Però... Abbiamo cenato a casa. Stai qui, sei pronto, sono stati scaricati i video da una parte, sei più tranquillo. Eh, potremmo andare al ristorante che sta a 200 metri qua. Ma va bene pure qua, in realtà. Io previsco molto di più da casa un chill. Sarà pure che viaggiando tanto voglio stare a casa. Dai, oh. Stai a casa più... Con i cani. Tu... Allora, noi siamo visti oggi, io ti ho visto che stavi da un'altra parte. Ieri? Ehm... E poi stavo a... Capito? Domani riparti. E io ho chiesto dove stavo ieri. Domani riparti? Sì. Quindi capisci? E io ho chiesto dove stavo ieri. Non me lo ricordo neanche più. Però capisci perché vuoi rimanere a casa? Non è solamente la cosa delle persone. Eppure che... Cioè, ma io pure domani, per fatte capire, no? Io domani voglio stare a casa. È normale. Cioè, voglio stare a mezza giornata. Ah, sì. Ma voglio stare a casa mia. Voglio vedere, voglio vedere il gatto mio che mi gira intorno. Voglio accendere il computer. Ma voglio grattare la panza. Capito? Può essere figo, la ghiacchierata e tutto quanto. Però c'è, ho avuto una persona esterna che so io. E cambia la cosa. Capito che ti voglio dire? Cioè, tu non riesci. Eppure se c'hai, sei tranquillo. Cioè, magari prendi confidenza. Però non c'hai quella calma di quando stai da solo. Che dici, ecco. Ma mi metto qui. Mi metto. Mi metto. King. Però secondo me dovrei uscire un po' di più dalla mia zona di comfort. A quello sicuramente. Cioè, nel senso... Io guardo tantissimi film, tantissime cose. Ma quando è l'ultima volta che sono andato al cinema? Un giorno a vedere Barbie. Per lavoro. Eh, lo so. Non per lavoro, non per lavoro. Cioè, andava proprio a dire... Oh, se no, ma vedo un bel film. Prendi un bello spettacolo in seconda serata. Ce sta nessuno, vai lì? No, 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 ma c'è ragione. Ma nessuno mi... Però poi le luci sono spente. Cioè, nel senso io... Ce vengo io. No, il problema è proprio il... Quindi devo uscire. Eh, ho capito. Però, però aspetta. Eppure andare a fare la spesa. Però aspetta. A me piace fare la spesa. Però devi... Però la ordino spesso. Però tu ti aspetta un attimo. Cioè, tu non è che... Un conto era che tu stavi 24 ore su 24 chiuso dentro casa. Dopo una settimana. E ti dico... Sì, sì, sì. Sì, te devi sforzare. Ma se tu ieri stavi a Salerno. E domani stai da un'altra parte. E oggi sei stato a Milano. E tra i tre giorni stai a... A Canigatti. Ma è normale che tu... Tante volte dici a non me va ad uscire. Perché per chi viaggia... E questo lo potranno confermare, visto che c'hai paura che la gente... Chi viaggia te lo può dire. Quando fai un viaggio sei cotto. Oh, è incredibile. Ogni volta che c'è da parlare di te... Tu, ma ghigliottina. Non c'è un margine. Ma te chiamo Robespierre. Io sono Massimiliano. E lui è Robespierre. Quindi stiamo a posto. No, c'è ragione, c'è ragione. Però io sono molto severo con me. Ma non lo faccio a cattiveria. Solo per migliorarmi, eh? Sì. E siamo d'accordo. Ma no, ovviamente. Però un minimo... Sì, 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 sì. Dai. Per Diana. Un minimo de... Etta. E allora, torniamo alla domanda a cui ancora non abbiamo risposto. Perché abbiamo fatto un volo pindarico incredibile. Le domande in una frase fatta. L'altra qual era? L'altra qual era? Non può farse vero pure con me. Te la ridico io quella domanda. Non ti preoccupa, non me scappi. Ma allora, tutta sta cosa dei soldi, dei viaggi, del successo. Per le persone che vedono mi dico, madonna che figata. Io ho sentito una frase oggi che mi ha colpito. Oh, ma te hai viaggiato... Ha finito, ma va, finisci che... Hai viaggiato più di un uomo dei 50 anni, sta a girare come un matto, sta a fare una cosa, no? Io sento tutto, faccio finta di niente, ma ascolto e percepisco tutto. Quello che ti chiedo è, tutta sta roba fa la felicità. E soprattutto, poi, dopo, che cos'è la felicità per te, innanzitutto? Famo così, andiamo per ordine. Che cos'è la felicità? A partiamo da che cos'è la felicità? Sì. La felicità. Per me la felicità è... Ce l'ho. No, dai, la tab, no, ma io... Ho capito, ma io sono boomer. Io sono felice quando rendo felice le altre persone. Può sembrare una cazzata, però te lo posso giurare. Cioè, la mia più grande felicità... Allora, in realtà la felicità sta... Può sembrare una frase fatta, non dico nelle piccole cose, ma sta in tante cose. Io sono felice quando sono soddisfatto di una cosa che faccio. Sono felice quando miglioro giorno dopo giorno in qualcosa. Come io quattro anni fa non parlavo niente d'inglese, adesso già che riesco a capirlo, io sono felice di questo. Quando imparo delle cose nuove. Quando leggo un libro che mi piace e... Riesco a comprenderlo e imparare nuovi concetti. Sono felice, cioè mi fa piacere. Forse è più che felicità è piacere. Però quando dico che io sono felice quando le altre persone sono felici, è vero. Cioè, aiutare una persona che ha un problema e vedere che riesce a superarlo, non dico grazie a me, ma anche grazie a me, mi rende felice. Ecco, riuscire a tranquillizzare le persone. Io quando riesco a tranquillizzarla, una persona, mi sento felice. La felicità per te è un concetto totalizzante o pensi che esistano momenti felici intervallati da momenti dolorosi? No, vabbè, intervallati ovviamente. No, perché c'è chi cerca questo concetto utopico della felicità totale. Ma no, ma no, 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 no. Cioè, io in realtà, per dire, spesso sono felice quando sono triste. Perché poi mi sembra brutto che parlo sempre, cioè spesso, di lavoro. Però molte, molte cose che ho fatto e che ho scritto, perché io scrivo tutti i giorni. Io scrivo, no, scrivo tantissimo, scrivo tantissimo idee, cose da fare. Molte le scrivo proprio quando c'ho un momento triste. Ma è difficile spiegare un momento triste, perché non è niente, lo senti proprio fisicamente. Mi rilasso, sto sciolto, sto preso in quel modo e mi metto a scrivere. Ok. E spesso escono delle cose fuori di testa, tipo ho fatto tantissimi contenuti tristi, che poi sono stati molto apprezzati e sono andati molto bene, ma che mi sono venuti in un mio momento triste, tipo questo. Io sono soddisfatto di quello che sto facendo adesso, che in realtà mi è venuto in un momento triste. Quindi in realtà io, delle giornate quando sono triste, io non mi sforzo neanche a dire, no, devo fare infinite cose per... me la prendo in chill, cioè faccio delle cose, oppure anche mi prendo il momento per me. Mi guardo un film, mi guardo un anime, sto tranquillo, mi ascolto la musica, a me va bene e quindi io, cioè spesso quando... è brutto, è uno simoro dire sono felice quando sono triste. Però è uno dei momenti che mi prende che sono triste, che poi mi fanno star meglio. Però l'unica cosa è che io, tipo, quando sono triste, ecco, ora mi potrei insultare, sicuramente. Sto da solo, cioè voglio stare tranquillo da solo, io non voglio altre persone, mi danno fastidio. Perché dovrei insultare? Boh, perché di solito, se sei triste, devi circondarti, persone che ti facciano essere felice. Ma io in realtà, quando ho i miei momenti... Ma chi ha detto questa cosa? Aspetta. No, ma in generale, io quando ho questi momenti, anche se sto magari con altre persone, dico, mi devo un attimo chiudere il camera perché devo ragionare. Io ragiono e spesso escono delle cose fuori di testa, cioè fighissime che... È sano, eh? Ah, ok, meno male. È sano perché io pure quando ho i miei periodi, io li chiamo i periodi leopardi, c'è veramente quei momenti come... Ah, la mia vita! Sì, sì, sì. E io faccio sempre questa metafora di me che nuoto dentro un mare di petrolio. Ok. E hai visto il petrolio, ti butta giù, non respiri. Poi piano piano, però quando esco sto bene. Ok. Perché è come se avessi affrontato quella parte nebulosa, quella parte nera all'interno di me. E lo devo fare da solo, perché quello è il mio momento e non voglio nessuno. Quando voglio qualcuno, lo chiamo. Sì, sì, sì. Non voglio nessuno, quindi in realtà io adoro una cosa molto sana. Ah, ok, meno male, meno male, grazie. Perché no? Vabbè, meno male, un po' meno severità, possiamo dire? No, no, sì. Eh, no, perché... Bravo, bravo, bello. Sì, sì, sì. Bello, bello, bello. Meno rottura. Poi ovvio, non è che durano chissà quanto questi momenti. Ma c'è, è chiaro. In realtà io sono molto bravo a gestirli, lo sai? Cioè nel senso, ci sta molto spesso che faccio... Magari c'ho un... Non è un periodo, ma delle ore, un po' in down. Però se so che poi devo fare determinante cose, eccetera, mi prendo quel momento e poi faccio... Vabbè, si va avanti, dobbiamo fare questa cosa. Cioè tipo io non sono quello... Cioè se va male una cosa faccio... Ah, merode, cioè merode, questo, quello, quell'altro. Ok. Metti il timer di un'ora. Drin, drin. Ah, mi sono disperato abbastanza. Bom. Pesso mi succede anche così. Perché magari le mattine in cui ti svegli, girato. Però poi alle 4 pomeriggio devi fare una cosa. Io sto girato. Io fino alle 3 e mezza sto girato. Poi alle 3 e mezza faccio... Ok, ok, va bene. E alle 4 faccio... Tutto a posto, il mio periodo ce l'ho avuto. E adesso si torna normale perché dobbiamo fare cose. Cambia il titolo del canale, proprio il nome del brand del canale. Ti chiami il prestazionale. Esiste, tutto attaccato. Il prestazionale. Non so se è una cosa giusta o sbagliata. Allora, prendiamo un lavoro classico. Ti che io lavoro all'accoglienza. Sì, sì. Merode. Eh. E non è che posso andare all'accoglienza a farcelo tu. Però non è che fingo. Tu che vuoi. Cioè non è fingere. Però perché lì c'è pure la passione di quello che fai. Quindi alla fine ti piace quello che fai. Sì, sì. Poi dopo magari finita quella roba ti riprende il momento. Ma perché sei un essere umano? Perché immagino per esempio che tu quando abbia chiuso delle relazioni amorose, ma pure amicali. Pure d'amicizia. Ok. No, no, stavo a fare generico. Ok. Immagino che tu ci abbia avuto pure quel buco dentro, no? Quella sorta di buco nero dentro che poi quando devi fare una cosa lo riempivi. Povero, quel buco nero viene. C'è quella cucina dentro che ti fa. La cosa più difficile, che in realtà ho iniziato ad apprezzarla tantissimo. Oh. È il dormire da solo. Eh, difficile, eh. È veramente. Niente, cioè perché se proprio stare in una casa da solo la sera, guardarti un film, stare con i cani, vabbè, guardarti un film, rilassarti, addormentarti da solo. Inizialmente io ho sempre visto come una cosa molto difficile, però stando sempre tanto tempo con le persone, bla bla bla, io sono proprio dei giorni in cui faccio... Bella raga, comunque dalle 7 di sera nessuno deve dirmi niente, me voglio vedere One Piece, me prendo una pizza, fin quando non collasso guardando One Piece. E mi addormento. Però quanto hai imparato, quanto adesso, quanto non baratteresti in sto momento. Ho capito, pure quando stai con una persona, è bello, quel calore umano vicino. Deve esserci un mix, infatti. Un mix, bello, vero? Senti, abbiamo parlato di felicità. Scusa, aspetta, King sta provando a fare una buca sul Naruto. King, non è... King, ciao. Bravo, mettiti giù. Dicevo, allora abbiamo parlato fino adesso di felicità, no? Io ti ho chiesto i soldi quanto fanno la felicità e quanto ha cambiato il tuo rapporto col denaro proprio, in generale. I soldi mi rendono più felice. Perché? Perché grazie ai soldi posso permettermi alcune cose che mi possano far star bene. Tipo? No, allora io dico, non ho detto che i soldi sono la felicità. Io ho detto, no, 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 io dico, mi aiutano, mi aiutano perché, faccio un esempio stupido, mi hanno rubato il telefono. Un telefono, eh, costa tanto un telefono. Io vedevo che la gente attorno a me era più preoccupata di me quando mi hanno rubato il telefono. Facevano, adesso che fai, adesso che fai? Me ne compri un altro domani mattina. Ok? Io ero più preoccupato che facevo, ah, spero di avere il backup almeno possibile. Ho perso la mia vita. Che sbatta. Non devo ricomprarmi un telefono. Come dice Marrakesh, i soldi servono a non farti rompere il cazzo. Bravissimo, i soldi servono a non farti rompere il cazzo. Non l'avessi detto io, ha detto Luca. È vero, no, è vero. Per me il lusso è un giocattolo, i soldi servono a non farti rompere il cazzo. È vero. Cioè, nel senso, avere la cosa del posso andare a cena fuori, posso portare una persona da qualche parte. Voglio andare in Giappone perché mi piace il Giappone, posso prendere un volo domani mattina. Poi non posso prenderlo per altri infiniti motivi di lavoro, impegni, eccetera. Però sai che se dovessi voler cambiare piano all'improvviso potresti farlo. Sì. Io potenzialmente potrei pisciare completamente tutto e andarmi a prendere sto villone a 10.000 metri quadrati in Venezuela. Dai, con sto air in modo dodondo, dodondo, dodondo. Ma sì. Non te ce vedo. No, ovvio. No, non lo voglio fare, infatti. Ma papà, ma come il video dei 52 ore in silenzio, là dopo 52 ore... Eh, mi rompo le palle. Sì, sì. Però ti dico, la questione è che in questo momento casca sta luce, si rompe, faccio... È una cosa brutta dire, però i soldi, secondo me, almeno secondo me in questo momento della mia vita, mi aiutano per fare più cose che possano aiutarmi a rendere felice. Però c'è un problema. Aiuto. Il problema è che più soldi hai... Più ne vuoi. E più ne vuoi. Bro, questo è un gran problema, perché io ogni anno, ok, che vedo Sespo come una grande holding all'interno, ogni cosa sono delle aziende, bla bla bla, però voglio aumentare. Ma io non voglio aumentare i soldi per spenderli incazzate. Io voglio aumentare i soldi per far sempre cose più fighe. Io sono felice di fare i soldi, perché grazie a quelli ho creato questo. Senza i soldi io non potevo creare questo. Quindi creavo una cosa, non voglio dire più brutta, però... Non all'altezza delle tue aspettative. Bravissimo. Cioè, se io in questo momento avessi dieci volte i soldi che ho adesso, io non è che li userei per... Certo. È solo perché voglio fare un progetto? Lo faccio. Se va male il progetto? Ah, peccato, vabbè, ho fatto un gran progetto, secondo me non è stato apprezzato. Spendo i soldi in manga, libri, film, cose che mi servono per produzione video. Ma utilizzi, secondo te, una parte di te ormai, utilizza i soldi per comprare quelle cose, per compensare delle tue mancanze. Mi manca qualcosa, ne ho bisogno. Sì. Con i vestiti. Anche se sono molto fortunato perché adesso, lavorando con tantissimi brand di moda, è tanto che non compro, sono pochi brand... Cioè, compro pochi pezzi adesso. Però... Cosa intendi per mancanza, però scusa? Cioè, perché... Hai bisogno di, non so, ma di consolarti, di prendere una cosa, vuoi fare una cosa... Ah, uno spizio, un regalino? Per riempirti, per riempirti di un qualcosa che non hai. Sì, alla volta succede che compro qualcosa, non capivo, per colmare una tua mancanza, pensavo tipo una mancanza affettiva, per questo non capivo. Però magari sì, magari tu devi comprare la Playstation 5, perché giocando al videogioco va a compensare quella mancanza di quella persona che ti manca dentro casa. No, no, io in realtà tutti i soldi che spendo, li spendo per cose che mi servono per il mio lavoro. All'eccezione sì, mi succede che mi compro qualche vestito se c'è qualche collezione nuova che mi piace. Soprattutto a me le collaborazioni fanno impazzire, quindi se esce una collaborazione figa, o comunque qualcosa da mettere nella mia zona studio, o da mettere in casa, la compro, ma non è neanche quella cosa... Compra un manga, capito, che costa 5 euro. Cioè, non è una mancanza, perché mi piace e me lo leggo. Quindi quello non lo userei come mancanza, magari. Stessa cosa di quei libri o i film. A me piace vedere i film. Io compro i Blu-ray, ma perché i Blu-ray così me li posso vedere quando mi pare, anche se una piattaforma streaming perde i diritti. Quindi sì, succede che ogni tanto prendo e faccio, voglio comprare questo. Però in realtà io spendo molti più soldi per fare magari regali alle altre persone, piuttosto che per me. Cioè, a me fa molto più piacere fare un anello di diamanti per mamma, piuttosto che fa a me tutto diamantato me. Preferisco da un diamante a mamma. Fai un anello e dici, ciao, ma questo anello te l'ho fatto a te. Cioè, l'appagamento è una cosa talmente personale, è una cosa talmente intima. Veramente nessuno si può permettere di dire, ma che sta a di... Perché magari ci può stare che uno faccia fatica a crederlo. Però siamo tutti diversi. Io personalmente la vedo come te, ma fino a un certo punto, pure chi la vede è completamente opposto a te. Però è così. L'ultima cosa che ho comprato, per me, ad eccezione, vabbè, di cibo e cose per vivere, ok? Penso... Eh, no, le cuffiette, no, per se... No. Che cosa ho comprato per sfizio? Fammi pensare. Boh, vedi, manco mai ricordo, un DVD Blu-ray. Cioè, sì, un film di Johnny Depp. Blu-ray costa 10 euro, quindi neanche a dire... Sì, 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 è l'atto di... Sì, sì. Io l'unica cosa che sono sicuro che non perderò mai nella mia testa, almeno spero in questo momento... C'è proprio il valore dei soldi. Valore. Però ti dico, ovviamente in ambito lavorativo, non è che dico che ho perso il valore dei soldi, però è ovvio che se quattro anni prendevo determinati soldi, adesso ho molti di più, e non faccio determinati cose per le cifre di quattro anni fa, non è che so stronzo. Certo, vabbè, è ovvio. Cioè, c'è tutta la cosa di lavoro, c'è il team di lavoro che va pagato... Quello penso sia normale, no? Sì, 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 sì. No, sì, sì, quindi questa è l'unica cosa che... Però ho ancora il valore dei soldi e sono molto felice di questo. Questa volta, prima che ci rivediamo, ti faccio una domanda. Se adesso dovresti concentrare nei tre incontri che abbiamo fatto, qual è, nella tua vita, la cosa che ti mette più a disagio di tutti e la cosa invece che ti fa sentire più sicuro di tutti? Allora, la cosa che mi fa sentire più a disagio, che mi crea proprio un fastidio, è la mancanza di rispetto delle persone. Io, se c'è a te vicino che manchi rispetto ad un'altra persona, a me crea un botto di disagio, tantissimo. E la cosa che mi mette più sicurezza, le mie amicizie più strette o la mia famiglia, è in primis me stesso. È coerente con quello che mi hai detto fino adesso me stesso, eh? Sì, sì. È perché avendo questa personalità ci sta che tu ricerchi te stesso. Mo' tu te levi, te ne vai. Da casa mia? Da casa tua, te ne vai. Ok. Io spero di rivederti il più tardi possibile. Ok. No, scherzo, ovviamente no. Però vediamo come va. Chi lo sa che la prossima chiacchierata, chissà se ti troverai ancora più tangibile, se tutti i progetti, le cose di cui si è parlato, avranno preso piede. Sono tante storie che posso raccontare. Però raccontato in questo modo è molto bello. Vai, sto contento.